Euni viene assunta come aiuto governante presso una ricca famiglia borghese. Presto il padrone di casa approfitta della sua posizione e seduce la ragazza. Quando i rapporti si fanno frequenti, l'anziana governante custode di molti segredi, avvisa la madre della moglie. Euni rimane incinta, ma nonostante voglia tenere il bambino e si dica intenzionata ad andarsene, è costretta ad abortire. Questo umina la stabilità mentale della giovane cameriera e ne scatena la reazione. Remake del capolavoro omonimo del 1960, diretto da Kim Ki-jung, The House Made di Im Sang-so, lascia da parte le venature horror dell'originale per spostarsi su un piano più noir, costruendo un impianto teatrale claustrofobico all'interno del quale l'implacabile spirale narrativa può avvitarsi tra Hitchcock e un morboso gruppo di famiglia in un interno, fino al finale torbido.